musica bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui per vedere un step 2a dell'ester egg un pochettino più complicato rispetto a quello normale, innanzitutto avremo bisogno del disco ottenuto, dei dischi arancione, verde e rosso, dopodichè avremo bisogno della testa di banner Brenner, insomma quello zombie che ha lancia fiamma ad osso, infine qualsiasi arma tesla che vi abbiate potenziata oppure anche con la standard va benissimo, ora andiamo nell'obitorio, riattiviamo di nuovo il generatore andiamo nel laboratorio e riattiviamo di nuovo l'altro generatore e infine torniamo qua in sala comando e attiviamo questo piccolo generatore qua che ci permetterà poi di sparare a due bobine, una volta sparato alla bobina andiamo nel laboratorio, andiamo subito a sinistra appena scesi le scale e facciamo l2 su questo piccolo armadietto, ora possiamo anche posare la testa, non c'è nessun problema, l'importante è che giriamo questi numeretti qua affinché non compaie, non compare il colore blu insomma, quando sono tutti blu questo armadietto si aprirà e ci potrà dare un pezzo di dischetto sembra fatto ciò ci riprendiamo la testa di Brenner, Brenner, lui insomma e la portiamo nell'obitorio dopodichè spariamo un colpo solo alle bobine e come prima alla sinistra qua, vabbè stavo cercando la testa che non la trovo più, facciamo l2 sull'armadietto su questo qua sentirete comunque sia un suono tic tipo e fa così e come prima dobbiamo girare i numeretti per farli diventare tutti blu e anche qui ci darà un altro pezzo di cerchetto una volta raccolto anche quest'ultimo componente torniamo nella camera dell'imperatore, andiamo dietro l'essa, interagiamo con questo cerchetto e qui potremo droppare la nostra spada, un'altra spada che vabbè con i soliti tasti R2 come la pala facciamo l'attacco normale, se invece facciamo LL2 giriamo a uno zombie e poi facciamo R2 farà una mossa speciale diciamo così si inficca la spada dentro la testa, bene ragazzi ho concluduto qua il video, spero che vi vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like e scrivere la nostra giornata per i rimani sempre alla giornata e ci vediamo alla prossima, bene ragazzi